Musica Abbiamo sulla nostra gamma tradizionale presentato le pompe in ghisa per completare la nostra gamma verso l'alto, quindi verso le pressioni più elevate ma come sempre noi puntiamo fortissimo sulla nostra famiglia elica quindi sulla famiglia di pompe coperte da due brevetti che hanno le caratteristiche di bassa rumorosità quindi sono particolarmente silenziose e di alta efficienza anche ad un ridotto numero di giri Una gamma dell'elica che si è arricchita di recente della versione FTP e che continua a essere la gamma sulla quale continuiamo a lavorare e che sicuramente anche nei prossimi anni vedrà la nascita di tanti nuovi modelli Musica Musica Ci proponiamo come dei personalizzatori del nostro prodotto della pompa ingranaggio chiediamo sempre al cliente qual è la tua esigenza e noi cerchiamo di trovarla di recente anche con applicazioni che escono anche dal solo mondo della pompa ingranaggi cioè delle soluzioni elettropompe quindi sia taglia più grande famiglia della 2 che taglia più piccola famiglia della 0,5 e quindi ci vedono anche come possibili integratori dei due sistemi sempre nell'ottica di dare al cliente un servizio e quindi un prodotto personalizzato secondo le sue esigenze Musica 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 Tutte le novità comunque sui nostri prodotti e sulla nostra azienda Musica 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 Grazie a tutti.